Questa L'Argento viene presentato un bellissimo libro sul benessere animale, la tematica è quando mai attuale, parliamo con gli autori e con lo scrittore Stefano Petri. Io sono Giacomo Rossi, io sono Anna Siciliana, abbiamo un blog, siamo sui social, per parlare soprattutto di gatti, del comportamento felino e come aiutare non solo a capirli meglio, ma a cercare di aiutare l'essere umano a convivere molto meglio con i felini, quindi con i gatti. Ecco, diciamo, ci chiamiamo Tobins, se volete trovare ci sono i social, e abbiamo cominciato un po' per gioco con il nostro gatto Pino e il gatto Ciccio Migo, dove facevamo vedere le loro avventure, poi piano piano è diventata una cosa più seria e abbiamo deciso di sensibilizzare le persone sul tema appunto del benessere degli animali e anche poi su come evitare di farli stressare, di maltrattarli, perché a volte succede anche in maniera diciamo inconsapevole di farli stare poco bene, quindi è diventato così. Ed è proprio la sensibilizzazione e soprattutto l'educazione verso il benessere degli animali che è perfect il nostro tema oggi. Oggi è un momento importante perché al salone del libro finalmente si parla di benessere animale.